Rimane alta l'attenzione sulla questione dell'aumento dei pedaggi autostradali. I sindaci restano sul piede di guerra, anche se l'aumento potrebbe essere bloccato per altri quattro mesi, in attesa dell'approvazione del piano economico e finanziario. Per ora però non c'è nessuna certezza. Ieri al Ministero c'è stato l'ennesimo incontro. Già il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giovannini aveva detto all'Aquila che si stava lavorando per trovare una soluzione pubblica, il legge di bilancio, cosa ribadita anche ieri, ma di fatto la soluzione ancora non c'è. C'era anche il sottosegretario alla Presidenza dell'Aggiunta regionale Umberto D'Annuntis assieme alla delegazione di amministratori presenti a Roma. Da mesi gli 800 amministratori di Abruzzo e Lazio sostengono questa battaglia per evitare dal 1 gennaio 2022 un rincaro del 34% circa, che significherebbe la morte delle aree interne. L'ipotesi alla quale si sta lavorando è quella di bloccare gli aumenti da gennaio ad aprile con circa 6 milioni finanziati dalla legge di stabilità e nel frattempo lavorare all'approvazione del PEF che consentirebbe un investimento importante per modernizzare e mettere in sicurezza 24-25. I sindaci però sono abbastanza contrariati e non hanno fiducia. Sono 13 anni, del resto che non si è risolta la questione del PEF. Nella riunione a Roma è stato ribadito che serva una soluzione immediata e anche D'Annuntis ha insistito su questo. La soluzione non c'è, c'è un'ipotesi di sterilizzazione di soli 4 mesi in attesa della definizione di un PEF, ma non credo che in quattro mesi si possa definire un PEF di questa portata. Quindi noi chiediamo una soluzione strutturale di questo annoso problema dei pedaggi in attesa della definizione del PEF che deve avere parte di questa soluzione strutturale. In tutto questo c'è chiaramente la posizione di strada dei parchi che si dice vicina ai sindaci e che è anche minacciato di interrompere il rapporto. Secondo loro tutto rimane sospeso in questi giorni, hanno dichiarato, loro stanno provvedendo a consegnare l'ennesima ipotesi di PEF con zero investimenti. Non si riesce a capire bene la responsabilità perché sono affidamenti che si sono modificati nel corso degli anni e comunque sono operazioni complesse, c'è una operazione complessa di messa in sicurezza. Una cosa è certa che i disagi che i pendolari subiscono anche attualmente con chiusure e con sensi unici alternati non vengono compensati in alcun modo da strada dei parchi come invece succede in altre tratte. Quindi questa disponibilità di strada dei parchi non la prendiamo troppo sul serio.